Lo scorso anno, solo nei centri antiviolenza di Chieti e Guardia Grele, sono state prese in carico 186 donne bisognose di protezione ed assistenza. Il dato drammatico colloca la regione Abruzzo tra le prime in Italia per la violenza sulle donne. Dopo 18 anni, è stata aggiornata la norma sui centri antiviolenza, approvata in Commissione Salute, martedì prossimo in Consiglio regionale, il voto per l'approvazione finale. Un fenomeno particolarmente grave, assistiamo ogni giorno a episodi di cronaca. Sì, purtroppo sappiamo che entro 12 giorni di gennaio 5 donne sono state di nuovo ammazzate e siamo solo all'inizio dell'anno. È importante migliorare il lavoro che i centri antiviolenza in questi anni hanno portato avanti. Ed essendo appunto le professioniste del contrasto alla violenza di genere, avere questo dialogo interlocutorio con la regione ci consente davvero di partecipare a dei tavoli che ci permettano di migliorare il più possibile i servizi in sostegno di queste donne. Quindi è chiaro che è ancora tutto da migliorare, sia ben chiaro che la legge aveva 18 anni, erano anni che aspettavamo modifiche. Adesso queste modifiche ci consentono di cominciare ad aprire un ulteriore dialogo con la regione. Non abbiamo finito qui. Se una riforma attesa da 18 anni, quali le novità principali? Intanto un albo, un albo dei centri antiviolenza e una pianificazione triennale. I centri antiviolenza oggi sono costretti a ripresentare progetti ogni anno, a dimostrare ogni anno la loro attività e sperare ogni anno di ottenere dei fondi. Con questa legge si struttura sia l'iscrizione in albi dei centri antiviolenza e anche il contributo pianificato triennale che aumenta inoltre di oltre 150.000 euro. In questa legislatura, me ne sono sempre fatta carico io, con emendamenti al bilancio, con questa legge li rendiamo finalmente strutturali. E semplifichiamo la vita ai centri antiviolenza perché insomma redigere i programmi e partecipare al bando ogni anno è un lavoro gravoso di personale che fa già e svolge già un lavoro molto gravoso.